cari amiche e cari amici sono luca biagini sono un attore e un doppiatore nella mia lunga carriera artistica ho attraversato il teatro il doppiaggio la televisione il cinema tenendo sempre però caro il teatro oggi io vi propongo un percorso di studio per la preparazione di provini per la televisione per il cinema per il teatro con testi monologhi scelti da voi oppure un altro percorso per lo studio della recitazione attraverso la lettura e l'interpretazione di testi ecco le sessioni saranno più o meno di un'ora circa e poi vedremo se sarà il caso di continuare con altre sessioni oppure se siete soddisfatti di un solo incontro vedremo e vedrete un caro saluto e un affettuosissimo abbraccio e a presto